Una storia lunga 81 anni. Della libreria Colacchi, gli aquilani ricordano l'odore dei libri, tipico di quelle stanze piene zeppe di libri, di cultura, di sapere e di storia. Un esilio forzato dal centro, lungo dieci anni, ora è il ritorno. Non più a Palazzo Picalfieri, zona dove la ricostruzione è ancora molto attiva tra camion e gru, ma in uno stabile a pochi passi dalla piazza. L'insegna però è la stessa e ogni nuova apertura in centro viene accolta come una festa. Ci sono tanti saloni all'interno della libreria, un'area per le letture dei più piccoli, un piano interrato e un secondo piano, tante stanze, tanti luoghi che saranno messi a disposizione anche degli eventi culturali cittadini, come presentazione di libri o mostre. Una storia d'amore iniziata tempo fa e che ha passato la mano di generazione in generazione. Roberto e Sandro Rotili oggi passano il testimone ai figli Matteo e Giovanni, che con cura e d'amore da qualche giorno hanno ricominciato ad accogliere in centro i clienti. Dobbiamo guardare sicuramente al futuro, anzi il futuro diciamo è adesso, quindi ci stiamo attrezzando in tutti i modi possibili, anche appliando lo spazio attuale. Avremo infatti stanze per le conferenze, per qualsiasi evento, mostre, quindi ci daremo da fare insieme a mio cugino Giovanni, ci diamo da fare, ci daremo da fare per aiutare anche la città a riprendersi nel migliore dei modi. Io credo un 40-50 mila all'incirca e questo è importante avere, anche diversificare i titoli, non è importante la quantità ma la qualità dei testi.